Ciao a tutti, in questo video vedremo come si usa Pandas per scaricare dati finanziari sono proprio le basi di Pandas, questo pacchetto per Python che devo dire è molto molto utile benissimo, allora, qui ho aperto Jupyter ok, soliti comandi import Pandas ASPD import tpq oa, che sono le API di OANDA dopodiché, questo qui legge il mio file di configurazione che ho spiegato nel video precedente anche questa è un'altra cosa che ho spiegato nel video precedente prendo i dati euro-dollaro dal 15-12-2020 al 10-2-2021 con granularità giornaliera, quindi tutto sommato abbastanza pochi ok, vediamo le informazioni sono solo 40 entries ok, vediamo un po' di dati, eccoli qui soliti dati e open, high, low, close benissimo e cosa possiamo fare? beh, innanzitutto le abbiamo in df che come abbiamo visto prima è un data frame possiamo usare il metodo iLock vediamo cos'è 0, 0 e scusate, non è un metodo ma è un parametro attenzione perché come vedete usa le parentesi quadre quindi è df iLock e poi con 0, 0 gli mettete esattamente quali volete è 79.511 quindi questo quindi riga 0 come al solito in Python e colonna 0 attenzione che questa colonna è l'indice e non è una delle colonne ufficiali diciamo vediamo cosa succede andando qui, aumentando 1 true quindi la secondo parametro definisce la colonna e il primo parametro ovviamente definisce la riga quindi riga colonna ok quindi iLock già è un parametro più che un metodo è un attributo ecco la parola giusta in informatica che vi promette di accedere a qualsiasi elemento del data frame benissimo e al data frame però potete accedere anche in maniera più brutale in questo modo quindi vedete per default il data frame ha un attributo che è uguale all'intestazione della colonna quindi vedete mi ripete comunque l'indice quindi se adesso qui metto O fra i prezzi di apertura l'indice me lo ripete sempre ok se volete invece sapere solo l'indice l'attributo è index vediamo che tipo è scusate type ok è un tipo date time index ok df index 0 ok anche qui è un attributo questo è un attributo anche volume 0 potete fare anche questo è un attributo quindi attenzione che tutte queste cose qui che possono sembrare dei metodi invece sono degli attributi quindi non vogliono le parentesi tonde come le parentesi di una funzione ma vogliono le parentesi quadre questo esempio prende il primo timestamp e così via ecco quindi questo è un modo veloce per accedere ai dati ne vedremo anche un altro con il modo lock invece di il lock abbiamo un modo per salvare i dati in un file di testo df2csv proprio banale banale 2csv diamo il nome a questo file di testo nome originale ok vediamo se lo trovo eccolo qui mi è arrivato ecco qui come vedete è un classico file di testo comma separated meglio possiamo fare anche l'operazione opposta possiamo ad esempio in t e pd red dovete mettere pd perché se mettete soltanto read csv python pensa sia una funzione nativa invece dovete specificargli che è una funzione di pandas qui non serve perché è una funzione del data frame scusate è un metodo del data frame possiamo caricarlo così il problema è che se lo carichiamo così non arriva esattamente come vorreste dovete specificargli due cose la prima è che queste cose qui sono delle date perché altrimenti lui probabilmente le tira su come stringa quindi parse date io specifico qui l'intestazione della colonna adesso riapro il file di testo e capirete vedete time è l'intestazione della prima colonna quindi io specifico che la colonna che si chiama time dovrà essere convertita in date dopodiché specifico anche quale sarà l'indice questa volta lo specifico con il numero 0 opet è un bel errore vediamo dove sta dove sta dove sta pass date a pass dates ok vediamo subito t head ok come vedete è stato ricostruito esattamente come era prima e una curiosità solo mia posso mettere anche time qui invece di 0 sì così come qui se voglio posso mettere 0 invece di time quindi è comodo potete scegliere o l'intestazione o il numero della colonna ok e questo è diciamo è il modo standard per leggere i comma separated values e purtroppo capiterà spesso e volentieri che voi facciate soltanto così o che per qualche motivo quindi adesso se faccio t head ops aiuto t head adesso vedete ho sempre time ma prima di tutto queste qua probabilmente le ha capite come stringhe e poi ha un'altra colonna indice che è questa qui anzi per controllare se le ha capite come stringhe io mi faccio stampare questo si la capite come stringhe vedete sono racchiuse se faccio type di questa cosa qui mi dà str ok e come facciamo a convertirle in 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 time a posteriori quindi dopo dopo che l'abbiamo già importato supponiamo che questo file sia sparito o che qualcuno ci abbia dato proprio un data frame fatto così male e quindi vogliamo convertire la prima colonna in un time abbiamo pandas ci mette a disposizione to date time quindi io mi metto dentro ad esempio b to date time di t dot time quindi me lo estraggo t dot time e me lo converto in date time per sicurezza voglio sapere come cosa c'è dentro b ok adesso b è una series però ok come vedete è una series ma i suoi elementi la series sono i componenti del data frame i suoi elementi sono time stamp ok quindi se per qualche motivo avete bisogno pd to date time converte in date time è molto molto versatile nessuno che accetta un po' di tutto questo lo accetta di sicuro accetta anche le barre probabilmente anche i punti quindi è abbastanza versatile benissimo adesso vediamo come invece aggiustare il tutto dentro al data frame ovviamente quindi per sicurezza riscarichiamoci il data frame eccolo qui ok me lo riscarico in questa maniera lo togliamo ok a questo punto io lo modifico in questo modo e t dot set index quindi imposto come indice pd to date time il t dot time quindi prendo t dot time lo converto in date time e lo imposto come indice vediamo il risultato scusate prima bisogna eseguirlo così ok ok adesso funziona ah no devo inserirlo in t di nuovo ok comunque devo inserirlo in t di nuovo quindi questo non sovrascrive il data frame però vedete l'ha fatto e ha creato l'indice giusto il problema è che ho ancora questo quindi devo fare drop e posso fare drop di time questo che ricordo che questo semplicemente time non è è index questo non è veramente time e devo dirgli di perdere time da dall'asse 1 l'asse 1 sono questi perché se gli dico di perdere time dall'asse 0 mi va a cercare un time qua dentro ok vediamo se funziona eccolo qui e quindi tutto ciò me lo metterò in t ok e adesso ecco qui ricostruito perfettamente ok beh informatica accetta to date time eccone qui un po' di esempio accetta anche le ore si possono anche specificare i mesi in lettere benissimo adesso abbiamo dentro t di nuovo il nostro data frame fatto per bene possiamo anche prenderne una parte vediamo come fare usando lock questa volta abbiamo visto prima i lock usiamo lock lock anch'esso un attributo si può specificare direttamente una data ecco qui se in questa data dovesse esserci più di un valore ad esempio perché ci sono dati orari ne rappresenta 12 vediamo se io specifico soltanto così come vedete mi tira fuori tutti quelli di dicembre 2020 è inutile dirvi che questo mi tira fuori tutti quelli del 2020 beh del 2021 eccoli qui ok si può specificare anche un range esempio 2021 0 1 15 colon 2021 0 2 10 ok ed ecco nel periodo e io mi chiedo se posso specificare un range così wow accetta anche cose del genere quindi è molto molto flessibile per quanto riguarda le date al solito può anche fare una cosa del genere fino a fine periodo o i due punti all'inizio come al solito fa python si può specificare anche la virgola quindi una lista però qui c'è un però in questo caso non è un range ma sono punti precisi e quindi se io metto una cosa del genere non me lo accetta e perché non me lo accetta è perché vuole anche l'ora almeno il 22 perché lui in questo caso sono punti precisi quindi va a cercarmi mezzanotte io specificando 22 e poi almeno uno dei due è un giorno festivo e il 15 dell'1 un attimo controllo qui accanto il 18 c'è il 15 è festivo mettiamo il 24 dell'1 no lo stesso perché non me lo prendi il 24 dell'1 c'è il 18 dell'1 c'è così qual è il problema qual è il problema qual è il problema non gli piace quella cosa lì ah ecco qual è il problema in questo caso 22 si poteva lasciare così cosa molto importante che mi sono dimenticato qui deve esserci una lista perché è una lista dentro perché lock accetta un parametro solo ok e questo invece sono due parametri questo è meglio una tupla di due parametri invece una lista fatta così lui lo accetta eccola qui eccola qui un'altra cosa che si fa tipicamente è fare il down sampling vale a dire avete i dati giornalieri volete i dati settimanali potete prenderli potete prenderli in vario modo ad esempio se si tratta di volumi avrà senso sommare sui giorni se si tratta di invece prezzi avrà senso prendere il prezzo del venerdì o il prezzo medio quindi potete farlo in vari modi anche qui controlliamo di avere il nostro data frame eccolo qui tutto a posto benissimo e facciamo resample w facciamo resample weekly e non mi stampa niente non preoccupatevi e perché per stamparlo bisogna fare una cosa del genere bisogna convertirlo in lista ok adesso me lo stampa infatti il metodo resample raggruppa per settimane vedete ha raggruppato per settimane questa settimana cinque giorni a settimana quest'altra settimana eccetera eccetera lui questa settimana ha quattro giorni solo perché uno era festivo probabilmente il metodo resample quindi si limita a raggruppare settimane vediamo la prima settimana ecco qui i volumi open high low close della prima settimana ok se al metodo resample agganciate un modo per spiegare a python quale volete di questi dati perché lui qui ha semplicemente raggruppato dovete a questo punto dirgli volete sommare sum in questo modo lui sommerà tutti i dati che per i volumi ha perfettamente senso per i prezzi no ovviamente ed ecco qui settimana per settimana lui mi fa la somma questo ha senso solo per i volumi invece last ha senso per i prezzi settimana per settimana vi mette l'ultimo prezzo che ha trovato potete usare anche first potete usare anche min max min questo avrebbe senso anche qui min ok quindi tutte le classiche funzioni di tipo summary ok potete usare anche una cosa del genere che è un po' strana questo fa un resampling settimanale ok ma l'ultimo giorno della settimana è lunedì quindi inizia da ma settimana inizia da martedì ok controlliamo il 15 del 12 sarà martedì speriamo e potete fare anche tante altre cose ad esempio Q adesso è inutile perché questi erano dati per due mesi e mezzo quarterly ok potete fare M monthly ma un po' di più MS MS è sempre monthly ma mette il primo giorno del mese come label eccolo qui vedete è il primo giorno del mese mentre con monthly attenzione i numeri saranno esattamente gli stessi qui avrete sempre 1220721 1220721 ma la label è l'ultimo giorno del mese ok è esattamente analogo quindi si possono fare vari sampling con questo parametro ogni tanto il parametro va anche a modificare il giorno indicato ogni tanto no ecco questo è utile per quando si voglia passare da dati giornalieri a dati settimanali che è tipico in finanza o anche da dati allora a dati giornalieri ciao ciao ciao